Palombi attacca lo spazio Palombi che è veloce, deve uscire di Gregorio un grande rischio come accaduto con l'Empoli Palombi a porta vuota Palombi 2 per 2 con Di Gregorio Palombi 2-0 Pisa Simone Palombi due schiaffi in 12 minuti Palombi con l'amantia Palombi si mette in propria in area di rigore Palombi attenzione palla in profondità Palombi posizione regolare Palombi solo davanti ad Accosta e torna in vantaggio la Ternana con la doppietta di Palombi Sibilli recupera palla lato corto dell'area di rigore va basso per il mancino di Palombi che questa volta non sbaglia qui rischia tantissimo sull'attacco di Bianchetti poi Palombi non basta Gori segna il gol del 2-0 ma per Palombi che punta la porta è scappato Palombi Palombi in mezzo a 2 Palombi ancora la conclusione e la palla in rete Palombi Palombi limite dell'area Palombi le finte va col destro Palombi raddoppia in Lecce con Simone Palombi che la piazza alza la testa va in verticale per Palombi gran palla Palombi cerca la grande giocata per Palombi Palombi al pareggio di Lecce con Simone Palombi parte il cross interessante per la testa di Palombi ancora Simone Palombi molto bene Tavanelli poi persa il lancio per Palombi posizione regolare Palombi palla che ribazza Palombi scavalca e lezzerini per la testa di Palombi per la testa di Palombi Palombi